Al manacco europeo! Eccoci con un nuovo fresco appuntamento di almanacco europeo in questa versione light di chiusura di secondo appuntamento di sottoportashow estate, però il nostro Federico Mancini oltre a essere fresco e tosto è anche bello carico per questo secondo appuntamento con la rubrica di almanacco europeo. Prego Federico! Allora per il manacco europeo naturalmente il focus di questa decumana non è altro che la Germania che andremo ad affrontare e quindi volevo un attimino fare una didascaria nei vari ruoti dei personaggi che l'allenatore ha convocato. In pratica il portiere è sempre stato noi del Bayern Mono con sette rivali anche se come secondo a Andrej Ter Stegen... Il portiere del Barcellona, sì! E c'è anche un terzo portiere che diciamo lui ha voluto portare, si tratta di Bernard Leno del Bayern Leverkusen. Per quanto riguarda i difensori abbiamo il fratello di Boateng che è stato in 1970 che era il giocatore del Bayern Monaco e per rilevare che Leverkusen si affida alle basce sventive Hector della Colonia. Sì! Perché abbiamo anche i film del Borussia Dortmund. Ex Borussia Dortmund è proprio fresco... Ex Ex Borussia Dortmund fresco del Bayern Monaco ecco. Sì, nonostante che ha perso varie linee dopo che si è diventato da Klopp comunque è una squadra sempre rifatta e sempre ben vinta. Poi nei difensori si sottolinea c'è anche Antonio Rudi della Roma che si è poi fatto male. Nelle fine dei centrocampisti passiamo, c'è il track del Wolfsburg e abbiamo anche un preachetidale, la Juventus, il vice del Bayern Monaco e il famoso Toni Cross del Real Madrid. Esatto. Oltre Auxil dell'Arsenal. Da rilevare che c'è anche il Baden-Nyger della Manchester. Il Spanish-Nyger, il nome impronunciabile dell'United. Il pronunciabile è come sempre una birra praticamente. E poi a riparare gli attaccanti c'è questo fatto che stranamente la Germana schiera due attaccanti in dove niente si è turca. Ecco. Nel senso che oltre a Mario Gomez che, diciamo, gioca nelle stessi... Ma ancora di proprietà della Fiorentina. Il cara Tarasari che comunque è una prima scelta di banchina è chiaramente l'altra punta centrale, Thomas Müller. In questo caso del Bayern Monaco, sì. del Sports World. Quindi questa è, diciamo, la piantina di tutti i giocatori che andranno a giocare con l'Italia. Per quanto riguarda la formazione che si accinge a giocare con l'Italia è stata. In Porta Neuer, per quanto riguarda la linea difensiva da sinistra verso destra, abbiamo Hector Kimmel, Jeremy Poeteng e Kimmich. Nella mediana abbiamo arretrati Toni Kroos e chi tira un po' più avanti come Mezzala o Zil. Le punte laterali sono Müller e Draxel con Mario Gomez punta principale e questo è lo stagliere che, diciamo, è dato come colazione contro l'Italia. È una bella squadra, Federico. Prego. È davvero una bella squadra, però. Sì, effettivamente, anche se ci sono stati dei ricambi, c'era la Germania e sempre la Germania. Cioè, sono giocatori che, come abbiamo visto, sono andati a giocare anche fuori dalla Germania, però, diciamo, sono tutti, ognuno individualmente, ma merita attenzione le più punte. Sono tutti i giocatori che hanno, giocano nelle squadre tedesche e hanno, con una grande nuova sanità, loro hanno convocato anche i giocatori che stanno nella colonia e nelle piccole squadre, e quindi questo significa che la giocatore ci tiene a vedere i giocatori anche che giocano nelle piccole. Da ricordare che la Germania è orfana nel senso che si è fortunato con le vigili europee. Noi, 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 praticamente era un giocatore appistito bambino di cui la Germania addirittura lo ha, diciamo, ha dovuto rinunciare anche ai precedenti mondiali, quindi, diciamo, a questi piccoli fortuni che significano con... Un bel giocatore, ma è un po' fragilino, effettivamente. È un po' fragilino e quindi, comunque, devo dire, dobbiamo dare atto che la Germania, ovunque, si presenti, è sempre una squadra da... Di tutto il rispetto, certo. Di tutto il rispetto. Di tutto il rispetto. Il Futurikers non è una squadra, però dobbiamo fare anche, e approfittiamo di questa rubrica per fare anche una sintesi del campionato generale europeo fino a può, fino adesso portato. Vai, velofissimo. Allora, diciamo, dell'almanacco europeo. Cioè, oggi, che fino ad oggi abbiamo visto delle squadre che sono, diciamo, mediamente forti, non abbiamo visto qualche puntaggio diamante come squadra. Esatto. A parte la Germania, che c'è il suo gioco, però, effettivamente, non c'è questo tipo domande, fanno in condizione dal pubblico sportivo. Nessuno sa dire, come ci sono, quale squadra gli è piaciuta. Forse qualcuno di là, Irlanda. Eh, beh, beh, però questa è la vera sorpresa, sono d'accordo. La vera sorpresa è che l'Islanda viene da un gioco... Saranno molto contenti i tifosi inglesi. Molto roccioso. Per esempio, quando i giocatori diretti sono propriamente rognosi e tutti finiscono con GSON. 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 AUFUS. GSON. 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 R.A. è un marchio a me simpatico perché nel senso è l'unico sopravvissuto o meglio è stato uno degli ultimi che si sono nati dall'epoca della N.R. Esatto qualcosa era bello N.R. qualcosa di molto bello a noi tiffusi azzurri Ecco, N.R. era il marchio dei tempi di Maradona Esattamente La maglietta che ricordiamo era una maglietta quasi fatta a mano perché del cotone e soprattutto i numeri che noi quando tu eri giovani perché adesso sei anziano Più o meno, insomma Con quei numeri si ricorda Raffaele addirittura si cucivano a mano Ecco L'uno era cuciuto a mano, l'uno era una pasta a mano Cioè quando andavi da qualche negozio di abbigliamento E dicevano come la due essere fatta, se la facciamo uguale uguale Questo è un grande, purtroppo sono anche scomparso Il corso è sopravvissuto solo ma M2N Sono alcuni, alcuni, sono alcuni Effettivamente Adesso ci abbiamo solo la Givova, un marchiaccio Ebbè, è andata a venire al chivo per ora Pure cui se non aveva sarti Ecco, fra l'altro in tutta ciò Federico Va bene, non la faccio breve Chiudiamo con l'alba d'arco europeo Sperando che l'intestato di posto di avvento Anche un po' di ironia ci vuole